Il tema della pianificazione è anche questo un tema culturale, noi siamo bravissimi a cavarcela con l'italica eccellenza dell'improvvisazione, però dobbiamo fare uno sforzo importante perché pianificare è l'essenza, anche quello che si diceva prima, pianificare anche piccole cose, anche nel conoscere la propria abitazione so che quando accado in qualche cosa so dove devo andare. La pianificazione è un elemento del territorio perché anche qua dobbiamo sfatare il fatto che esiste, l'ho detto anche ieri parlando del Vesuvio, che ci sia il grande pianificatore nazionale, la responsabilità della pianificazione è in primo luogo delle autorità locali ma io direi di più del cittadino che la deve pretendere perché se noi non chiudiamo il cerchio tra un'amministrazione che pianifica ma un cittadino che pretende la pianificazione allora diventa difficile, diventa sempre un documento dentro un cassetto, allora per questo noi spingiamo sulla cultura perché nel momento in cui il cittadino pretende la pianificazione allora troveremo anche amministrazione.